Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Le Pillole D dedicato oggi a De Kroli, che è stato un attivista belga e che ha fatto davvero tanto da un punto di vista pedagogico e scolastico. Infatti pone subito il focus della sua attenzione sul fatto che gli allievi non sono minimamente valorizzati, anzi addirittura sono delle vittime della scuola tradizionale. E proprio per cercare di superare questo sistema così arcaico e che non valorizza gli alunni, bisogna rinnovarlo completamente. E questo si può fare secondo De Kroli cercando di unire due momenti in forma unitaria, due momenti di apprendimento, che sono il momento soggettivo psicologico e quello oggettivo sociale. Per quanto riguarda il momento soggettivo psicologico si tratta, secondo De Kroli, di andare a soddisfare quelli che sono i bisogni di ogni singolo allievo. E questo come si può fare? Attraverso la creazione di centri di interesse, cioè attraverso il fatto di andare proprio a stimolare l'interesse degli allievi. E questi centri di interesse vanno proprio a soddisfare non solo i bisogni, ma occupare anche tutte le facoltà dell'allievo. Questo momento si divide in due parti. La prima parte è quella dell'osservazione, nella quale i ragazzi potranno osservare varie situazioni, ma anche apprendere nozioni scientifiche. Mentre nella seconda parte potranno mettere in pratica ciò che hanno appreso durante appunto la prima parte attraverso delle attività pratiche che possano anche mettere in luce la propria creatività. E quindi esprimere attraverso realizzazioni pratiche, quindi per esempio linguistiche o artistiche. Per quanto riguarda invece il secondo momento, che è quello oggettivo sociale, è quello che secondo De Kroli deve avvenire al di fuori delle mura scolastiche, quindi nell'ambiente che circonda la scuola. E che succede in questo secondo momento? Che l'alunno potrà sperimentare la natura che lo circonda e adattarsi anche all'ambiente, sviluppando determinate caratteristiche. Quindi in questo secondo momento vengono privilegiate principalmente discipline riguardanti l'ambiente naturale, quindi per esempio geografiche o scientifiche, ma anche e soprattutto quelle riguardanti l'ambiente sociale, quindi gli aspetti etici e sociali dell'apprendimento. Un altro concetto molto importante per De Kroli è quello di globalizzazione, intesa proprio come la modalità di apprendimento che va dal tutto alle singole parti. E questo concetto di globalizzazione viene spiegato da De Kroli esattamente con l'esempio del bambino che percepisce la mamma, la percepisce nel suo intero e non nelle sue singole parti. Oppure quando noi ad esempio ci approcciamo alla visione di un quadro, lo guardiamo nel suo complesso e poi ci soffermiamo sui dettagli. Stessa cosa dovrà fare l'alunno, quindi da queste informazioni generali dovrà essere in grado poi di dedurre tutti gli aspetti più specifici. Secondo De Kroli però anche il concetto di globalizzazione si deve legare ai centri di interesse. Per fare centro e quindi avere un apprendimento di tipo adeguato bisogna sempre andare a rispettare quelli che sono i famosi centri di interesse di cui parlavamo prima. Bene con queste pillole su De Kroli il mio video di oggi è finito ma se volete approfondire l'argomento potete recuperare il video che ho dedicato all'autore nel link qui sopra. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.